La guerra combattuta nel mar Mediterraneo dal giugno 1940 fino ai primi mesi del 1943 fu una lunga e dolorosa lotta per il controllo e la protezione delle rotte marittime Questo aspetto fu determinante per lo sforzo bellico dei due principali antagonisti di tale scontro l'Italia e l'impero britannico La regia marina doveva proteggere le rotte tra l'Italia e i porti libici principalmente Tripoli e Benghazi Allo stesso modo la Royal Navy aveva l'obiettivo strategico di rifornire periodicamente Malta e attaccare i convogli italiani Non sorprende quindi che i principali scontri navali del teatro del Mediterraneo siano il risultato di azioni volte a interdire il traffico avversario o proteggere i rispettivi convogli Ne sono un chiaro esempio la battaglia di Punta Stilo la battaglia di Capoteulada i due scontri del Golfo della Sirte e le battaglie di mezzo giugno e mezzo agosto del 1942 Senza riconoscere la natura della guerra navale in Mediterraneo è difficile comprendere la condotta e le scelte compiute da due avversari nella lotta perpetratasi per quasi tre anni L'obiettivo dei due contendenti era quindi il controllo delle rotte marittime e non certo la ricerca di una pericolosa battaglia decisiva tra le due flotte Essa semplicemente non serviva ai rispettivi obiettivi e avrebbe potuto compromettere il quadro strategico in caso di esito negativo Ciò era particolarmente vero per l'Italia che non aveva la capacità industriale nei numeri per sostituire le unità maggiori perdute Anche la produzione bellica di cacciatorpediniere, corvette e torpediniere dovette affrontare diversi limiti a causa della carenza di risorse ma soprattutto di mano d'opera qualificata I piani di guerra italiani fino al 1935 vedevano la Francia come l'avversario più plausibile in un futuro conflitto europeo La guerra navale contro la Marine Nationale sarebbe stata combattuta nel Mediterraneo occidentale e nel Martirreno Di conseguenza la protezione delle linee di rifornimento verso la Libia nel Mediterraneo centrale non fu considerato un problema prioritario Dal 1935 ma soprattutto dal 1938 la prospettiva di combattere una guerra sia contro la Francia che contro il Regno Unito indusse la regia marina a concepire che solo una guerriglia navale fosse possibile contro le due soverchianti flotte nemiche Rifornire la Libia era considerato impossibile La colonia e le forze armate IV di stanza avrebbero ricevuto consistenti aliquote di rifornimenti prima dello scoppio del conflitto e poi avrebbero cercato di resistere da sole difendendosi da attacchi provenienti da Tunisia ed Egitto Ulteriori valutazioni tra il 1939 e il 1940 evidenziarono come un convoglio mensile scortato da consistenti forze di superficie avrebbe potuto raggiungere in sicurezza la Libia Tuttavia ciò sarebbe diventato insostenibile nel medio-lungo periodo Data la sua debole posizione, l'Italia entrò nella Seconda Guerra Mondiale solo quando la Francia era già sconfitta sperando in una rapida conclusione della guerra La scomparsa di uno dei suoi nemici portò la regia marina a rivalutare il problema del rifornimento della Libia che ora diveniva almeno di più facile soluzione Tuttavia l'assenza di una coerente pianificazione prebellica dovuta ai fattori prima citati portò a una generale improvvisazione dell'apparato logistico responsabile delle spedizioni e dei rifornimenti Come al solito, conflitti di potere, autorità confliggenti e rivalità tra le forze armate non aiutarono la ricerca di una soluzione Un altro fattore cruciale da considerare è che i tre principali porti libici disponibili Tripoli, Tobruk e Bengasi avevano capacità e volumi di sbarco limitati Potevano infatti gestire allo stesso tempo solo 9, 3 e 5 navi rispettivamente Questa limitazione avrebbe obbligato la marina a organizzare e proteggere due convogli settimanali composti da 3-4 navi da trasporto La realtà della guerra peggiorò presto la situazione Tobruk cadde nel gennaio del 41, presto seguita da Bengasi Ciò costrinse la regia marina a tenere in mare convogli mediamente ogni giorno al fine di rifornire l'esercito italiano in Libia e presto anche l'Africa Corps La riconquista di Bengasi non migliorò significativamente le cose La sua capacità era gravemente ridotta e il porto risultava maggiormente soggetto ad attacchi aerei Ciò lasciava Tripoli come il principale punto d'ingresso per i fornimenti destinati all'armata italo-tedesca di Rommel La capacità di Tripoli era ridotta al 50% già entro la metà del 41 Inoltre, in seguito all'arrivo dei convogli, i rifornimenti dovevano essere trasportati per centinaia di chilometri su strada o caricati su piccole imbarcazioni o motozzattere che costeggiavano la costa fino ai depositi di rifornimento dietro le linee del fronte Per proteggere i convogli, la regia marina dispiegò un'ampia gamma di vecchie torpediniere Navi ausiliarie, nuove torpediniere della classe Spica e Orsa Caccia torpediniere della classe Navigatori, Dardo, Fulgore e Turbine Con il progredire della guerra, i ranghi di queste navi si assottigliarono a causa dell'incessante attività e dell'offesa avversaria I cacciatorpediniere della classe Soldati, Maestrale e Oriani, destinate ad operare a fianco delle unità maggiori furono progressivamente assegnati ai compiti di scorta dei convogli All'inizio del 43, alcune delle eccellenti corvette di classe Gabbiano si unirono alla difesa dei convogli Tuttavia, anche esse arrivarono troppo tardi per fare la differenza Di tanto in tanto, a seconda dell'urgenza dei rifornimenti e della rischiosità delle rotte eseguite venivano utilizzati incrociatori leggeri e sottomarini per il trasporto dei rifornimenti necessari Durante la campagna di Tunisia, anche diversi cacciatorpediniere trasportarono truppe e rifornimenti in pericolosi viaggi attraverso il canale di Sicilia Anche la regia aeronautica prese parte alla difesa dei convogli fornendo copertura aerea, ricognizione e contrasto antisommergibile In questi ruoli venne impiegata una vasta gamma di velivoli Tra i più attivi ricordiamo i CR42, i G50, gli MC200, i bombardieri S79, gli idrovolanti Kant Z501 e 506, i RO43 e i Fiat RS14 Nonostante i miglioramenti accorsi in tempo di guerra le forze armate italiane non risolsero mai il problema del coordinamento aereo-navale principalmente a causa dell'assenza di una dottrina moderna della mancanza di addestramento e della mancanza di apparecchiature radio che consentissero le comunicazioni nave-aereo Dal 40 al 43 un totale di 993 convogli dell'asse si diressero verso la Libia Si trattò in media di un convoglio al giorno composto, sempre in media, da 1,9 navi da trasporto e 2,2 navi di scorta ciascuno Guardando le statistiche, la regia marina riuscì a trasportare in sicurezza in Libia il 91,6% del personale e l'85,9% dei rifornimenti spediti dall'Italia Tale dato trova riscontro anche nei dati suddivisi per anno relativi alle forniture In questa panoramica generale è però importante distinguere le diverse fasi alterne della battaglia dei convogli che si possono osservare dai dati relativi al flusso mensile dei rifornimenti Nel 1940 gli italiani non dovettero affrontare minacce sostanziali da Malta e da altre forze britanniche portando così a destinazione quasi il 100% delle spedizioni Nel 41, dopo un periodo di relativa calma, le cose iniziarono a peggiorare dall'estate di quell'anno culminando con il periodo nero per i convogli dell'asse del novembre del 41 Questo periodo coincise con il rinnovato sforzo offensivo britannico il dispiegamento della forza K a Malta e la ridotta intensità ed efficacia dei bombardamenti sull'isola Per superare la crisi del novembre 41, la regia marina gettò nella mischia le sue corazzate riuscendo a far passare nel dicembre del 41 e nel gennaio del 42 una serie di convogli che si rivelarono determinanti per i contrattacchi lanciati da Rommel nel gennaio e febbraio del 42 Come si evince dai grafici, dal dicembre 41 fino all'estate del 42 la situazione tornò favorevole alle forze dell'asse Ciò fu dovuto a varie cause, tra le quali l'annientamento della forza K le gravi perdite di unità maggiori subite dalla Royal Navy sul finire del 41 e dalla seconda offensiva della Luftwaffe contro Malta La situazione mutò ancora, una volta per tutte, a favore degli alleati dall'agosto del 42 I rifornimenti dell'asse continuarono a fluire in Nordafrica ma con perdite un aumento e un ulteriore logoramento che colpiva le esauste navi mercantili i chiacce torpediniere e le torpediniere Alla vigilia della battaglia di El Alamein la schiacciante superiorità materiale degli alleati e l'imminente ingresso degli americani nel teatro mediterraneo compromisero definitivamente il quadro strategico per le potenze dell'asse Dopo la perdita della Libia, la decisione italo-tedesca di impegnare gli anglo-americani in Tunisia richiese un nuovo, costante e gravoso sforzo In sei mesi la regia marina organizzò 276 convogli ciascuno con una media di 1,6 navi da trasporto e due navi di scorta A causa della carenza di navi mercantili veloci la regia marina ricorse sempre di più ai suoi cacciatorpediniere per trasportare rifornimenti e personali in Tunisia In questo nuovo contesto, gli italiani dovettero affrontare la rinata Forza K la neonata Forza Q con base a Bona in Algeria la rinnovata offesa subacquea britannica e quasi 5.000 aerei alleati, principalmente bombardieri, schierati in quel teatro In tale contesto avverso, le unità della regia marina continuarono ad attraversare il canale di Sicilia pagando un pesante tributo in termini di navi e uomini Riuscirono tuttavia a trasportare in sicurezza il 93% del personale militare dell'asse e il 71% dell'equipaggiamento inviato in Tunisia I dati mostrano che la marina italiana, nel complesso, raggiunse il suo obiettivo strategico mantenendo aperte le linee di comunicazione e di rifornimento con il Nord Africa Delle centinaia di convogli dell'asse spediti, essi riuscirono a consegnare la gran parte degli uomini e dei rifornimenti Tuttavia, questa vittoria statistica deve tenere conto del fatto che in alcuni momenti critici della campagna nordafricana in particolare la seconda metà del 41 e del 42 gli italiani poterono fare ben poco per evitare le maggiori perdite inflite dagli avversari Ciò fu dovuto a una combinazione di mancanza di navi, limiti strutturali della marina nonché dalla superiorità del nemico Il logoramento causato da quasi tre anni di guerra navale si rivelò insostenibile soprattutto per le navi mercantili impegnate nella lotta incessante Il grafico mostra che prima della dichiarazione di guerra italiana del giugno del 40 l'Italia poteva contare su una flotta mercantile pari a 3.512.000 tonnellate di naviglio A causa della decisione affrettata di entrare in guerra, un terzo di questa flotta fu catturato al di fuori del Mediterraneo il 10 giugno del 40 riducendo così la flotta mercantile disponibile a 2.300.000 tonnellate Le perdite avvenute durante la battaglia dei convogli furono solo parzialmente coperte da navi tedesche intrappolate nel Mediterraneo o da nuove costruzioni e navi catturate Il risultato fu che nel settembre del 43 la flotta mercantile italo-tedesca nel Mediterraneo era ridotta a 1.486.000 tonnellate di naviglio con, tuttavia, diversi livelli di qualità e operabilità Contrariamente ad alcuni luoghi comuni, originati anche dalla propaganda bellica la regia marina non si nascose in porto e tenne in mare ogni giorno le sue navi Essa combatte coraggiosamente, con mezzi limitati, una guerra disgraziata assolvendo ai suoi compiti ma pagando un prezzo insostenibile Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Come sempre, le fonti sono nella descrizione insieme ai link alle mie pagine social Non scordate di iscrivervi al canale e di premere l'icona della campanella Vento in puppa e al prossimo video!